Il progetto di reindustrializzazione della Exilisbus può entrare nel vivo. La trattativa tra la costituenda New Co. Industria Italiana Autobus, cui sarà affidata la gestione del Polo Unico Nazionale di Produzione degli Autobus e la CNH Industrial per l'acquisizione del ramo d'azienda della fabbrica di Valle Ufita, è in dirittura d'arrivo. Nel corso dell'ultimo confronto tenutosi presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico, le parti hanno chiarito la gran parte delle questioni sospese. Per la ratifica dell'intesa resterebbero da limare esclusivamente pochi dettagli. Per questo, anche se i rappresentanti delle società restano molto abbottonati e non si sbilanciano sulla possibilità di definire la partita in tempi brevi, le possibilità che nel corso del prossimo confronto si arrivi a definire la trattativa sarebbero molto alte. Peraltro è già stata definita pure la data del nuovo confronto tra i rappresentanti dell'industria italiana autobus e i vertici della CNH Industrial. A quella data sarà costituita a tutti gli effetti la NUCO che dovrà gestire il polo unico nazionale di produzione degli autobus. L'appuntamento formale presso lo studio notarile incaricato di dare vita all'industria italiana autobus è previsto per martedì 11 novembre. Il nuovo, seppur minimo rinvio, la Costituzione inizialmente prevista entro il 31 ottobre sarebbe dovuta arrivare nella settimana appena trascorsa è dovuto esclusivamente ad una richiesta in tal senso del professionista incaricato. Martedì nascerà dunque la società sulla quale il governo e il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Claudio De Vincenti nello specifico ha puntato per mantenere nel paese un comparto produttivo strategico come quello degli autobus.